Il tuo consulente agrometeo ti dà il benvenuto su Agro Notizie, il tempo previsto tra il 18 e il 20 di ottobre, il fine settimana. Un vortice di bassa pressione e informazione sull'Italia interessa poi tutta la penisola e per tutto il fine settimana con forti e piovosi venti di scirocco, soprattutto forti al sud e sull'Adriatico. Venerdì 18 piogge ovunque che saranno forti sui laghi Triveneto e Friuli. Sabato 19 piogge quasi ovunque, forti sul Veneto, sulla Sicilia e sul Materano. Domenica 20 piogge di notte al mattino su tutta l'Italia ma migliora poi al pomeriggio ovunque tranne la Sicilia e la Calabari. Temperature in rialzo a sud e regioni adriatiche.